Problemi per le lavoratrici dell'appalto Scuole Belle relativo alla pulizia e manutenzione delle scuole della provincia dell'Aquila. Ordini di servizio alle lavoratrici mandati addirittura via SMS e tante altre anomalie che la CGL oggi ha voluto denunciare in conferenza stampa. In questi giorni sta accadendo dell'imperosibile in questo appalto di Scuole Belle, in quanto ci sono lavoratori chiamati a svolgere delle attività lavorative tramite ordini di servizio fatti con SMS dall'azienda, quindi da loro referenti, per regarsi a svolgere dei lavori sulle scuole dell'Aquila. Il paradosso è che questi ordini di servizio praticamente prevedono dal 2 a 6 un tipo di attività lavorativa di manutenzione su delle scuole all'Aquila che puntualmente le scuole non ne sono a conoscenza, quindi questi lavoratori arrivano sulle scuole e non possono lavorare. A Canzatessa addirittura questa scuola è chiusa dal terremoto e questi lavoratori sono stati comunque inviati a far svolgere attività lavorativa su questa scuola, quindi è assurdo. Ma se i lavori non vengono svolti, innanzitutto i lavoratori noi abbiamo invitati a presentarsi perché è giusto che loro si presentano, perché se c'è un ordine di servizio loro lo devono rispettare, pertanto per noi queste giornate qua andranno a retribuire ai lavoratori perché comunque si sono presentati ugualmente sul lavoro. Poi vedremo quanto prenderanno la busta paga, lì dove non ci sarà la copertura retributiva interverremo anche con l'ispettorato del lavoro se sarà necessario. C'è in precedenza quei lavoratori in qualche situazione, nonostante avessero comunque lavorato, si sono ritrovati sulla busta paga dei giorni di ferie a copertura del non lavoro, mentre avevano già lavorato. Quindi già veniamo da un percorso del genere, quindi supponiamo che anche in questo caso possa essere fatta la stessa cosa. E chiaramente dopo trovate i tentativi, infatti in sede sindacale, in sede istituzionali, in forma abbonaria, non si trova la soluzione, l'unica soluzione che ci rimane è di mettere in mano tutta la procura e di fare le verifiche del caso. Sinceramente gli ultimi quattro anni e mezzo sono, possiamo dire, un calvario per tutti noi. È quello che proprio mi sento dal cuore di dirlo. Praticamente ci hanno rubato proprio la dignità umana, quella di tutti i giorni, proprio del vissuto. Perché non si può vivere a 60 anni ricevendo un messaggio la sera precedente per regarti in un cantiere a fare quasi edilizia il giorno dopo.